Porta aperta questa mattina nell'unità di raccolta sangue in occasione della festa dell'8 marzo, un gesto speciale qual è la donazione della sangue che ha visto la presenza di numerose donne. I medici e gli infermieri diretti dal responsabile della struttura sanitaria Antonio Moscato hanno offerto la loro disponibilità a tutte le donne che si sono recate a donare. Un giorno importante per loro, un giorno che comunque celebra la loro importanza nella società e la conquista dei loro diritti che comunque sono chiaramente legittimi. Il fatto di donare il proprio sangue, il fatto di compiere questo gesto altamente civico, un gesto importante, un gesto anche d'amore, testimonia il fatto della loro importanza nella società. Volevo anche trattornare anche questo, la donna di per sé è una donatrice di vita perché comunque la donna partorisce i figli, dà la vita ai propri figli. Questo è un ulteriore modo di dare vita a qualcun altro dando il proprio sangue e quindi consentendo alla gente che ha bisogno di poter continuare a sperare di vivere e continuare a vivere in maniera gioiosa la propria vita. Io sono una donatrice da quando avevo 18 anni, sono figlia di donatori, mio papà e mia mamma lo erano. Quando donare sangue era un evento straordinario. Mio figlio che sta per compiere 28 anni è anche lui donatore e la nostra piccola di casa oggi compie 18 anni e ha nel cuore di venire a donare anche lei. Noi doniamo il sangue perché pensiamo a quelle persone che non sono conosciute. Noi come famiglie siamo molto conosciuti, abbiamo avuto in tanti momenti la solidarietà di tante persone, la vicinanza e allora ci premuriamo a farlo proprio per coloro che sono sconosciuti. Se possiamo realizzare una goccia di bene perché non farlo? La sezione locale dell'ADAS ha donato un simpatico gadget a tutte le donatrici. Il festeggiamento della donna merita come risposta a questa giornata un piccolo gesto che può diventare un grande dono. A coloro i quali ancora non hanno donato, qual è il consiglio che diamo? Di venire a donare perché a tutti serve il sangue, a tutti noi. Noi pensiamo a noi non ci può capitare, invece capita a tutti purtroppo.